Ciao a tutti colleghi, in questi giorni ho dovuto cambiare alcuni settaggi dei meet, delle lezioni online dovute ad alcuni problemi che sono stati segnalati in interferenze tra studenti durante le lezioni questo fatto ha risolto da un lato molti problemi e dall'altro alcuni pochi colleghi riportano altri problemi di altro tipo allora confrontandomi con gli altri animatori digitali abbiamo scoperto che si può risolvere gran parte dei problemi rigenerando il link di meet dei propri classroom che è questo link che vedete qua adesso vediamo velocemente come ricreare un link nuovo nel vostro classroom e verificare quindi che eventuali problemi siano risolti definitivamente andate sull'impostazione del vostro classroom, scendete alla sezione meet, questa poi cliccando sull'indirizzo, rimpostate, tenete presente che questo ad esempio finisce con rtd quindi rimpostando si genera un nuovo codice che finisce con AQ5 ovviamente visibile agli studenti a questo punto se voi salvate e tornate al vostro corso vedete che finisce con AQ5 quindi avete rigenerato il link di meet questo fatto molti colleghi animatori digitali, gestori di piattaforme G Suite riferiscono che può risolvere gran parte dei problemi spero che funzioni fatemi sapere attendo a vostre notizie sono sempre a vostra disposizione grazie e ciao grazie a tutti